Pompei, ristorante Pompeo Magno, sapore a spasso nel tempo, l'evoluzione dell'arte culinaria dagli antichi giorni nostri. Si è svolto lo scorso venerdì 19 febbraio l'evento enogastronomico organizzato da Ristorante Pompeo Magno in collaborazione con l'Associazione Can Campania, la rivista omonima ed il blog Ritratti di Territorio. I presenti, oltre a gustare il menù a tavola con gli antichi pompeiani, realizzato ad arte grazie allo chef Vincenzo del Sorbo e agli studi condotti dall'Associazione Can Campania, hanno assistito alla presentazione del libro Ricette dell'Agro Nocerino Sarnese, tradizione e innovazione nella Valle del Sarno, della giornalista enogastronomica Nunzia Gargano. In un primo momento è stato presentato agli ospiti il progetto itinerario Arte e Gusto, nato nel maggio 2015 da una collaborazione tra il ristorante Pompeo Magno e l'Associazione Can Campania. I partecipanti durante i percorsi sono guidati alla scoperta di alcuni dei più importanti siti archeologici campani, come i scavi di Pompei, ville di Stabbia, tempio di Dioniso, scavi di Oplonti, antiquarium di Bosco Reale, castello di Lettera e tanti altri. Ogni percorso si conclude con un pranzo o una cena al Pompeo Magno, che riprende i sapori tipici, gli ingredienti e le ricette degli antichi romani con rivisitazioni in chiave moderna, attingendo ai trattati di Apicio, Catone, Varrone e Colomella. Particolare attenzione per le ricostruzioni degli usi culinari del tempo, I secolo d.C., è stata rivolta agli scritti di Apicio, il grande goloso scialacquatore dell'epoca, ma anche a quelli di Petronio, che nella sua opera Il Satiricon ci parla del personaggio trimalcione, che osava a stupire i commensali controvate spettacolari. Dalle tradizioni degli antichi si è passati poi a quelle dei tempi recenti, con la presentazione del libro Ricette dell'Agro Nocerino Sarnese, della giornalista enogastronomica Nunzia Gargano, che cura da settembre 2014 il blog Ritratti di Territorio, nato in occasione dei suoi vent'anni di giornalismo. La pubblicazione, con prefazione di Luciano Pignataro, rappresenta il primo ricettario completo sulla gastronomia che mantiene la propria identità in una sintesi di localismo e globalismo. Per concludere, è stato servito agli ospiti il gustoso menù a tavola con gli antichi pompeiani, realizzato dallo chef Vincenzo del Sorbo e contenente le seguenti portate Globulus, Epitirum, Cucurbita et Casium, Puls, Porcellum enococctum, Patina de Piris, Vini in Abbinamento, Pompei, Pompeiano Rosso IGT e Lava Flava, Lacrima Crissi e Doc dell'azienda agricola Bosco dei Medici. Chi volesse partecipare alle visite guidate che si effettano il sabato e la domenica e gustare questo ed altri menu a tema, può farlo prenotandosi tramite l'Associazione Culturale Can Campania o contattando il ristorante Pompeo Magno.